Ha parlato il PD, ha parlato lo stesso Partito Democratico, che poi lo dice una persona del genere, vabbè dai, un alto membro del Partito Democratico, altissimo membro, un uomo che tanti vorrebbero al posto della... E forse lo sta dicendo apposta, forse lo ha detto apposta per l'esatto motivo, no non sto impazzendo, ha detto veramente lui, adesso vi dico che, a bestia, a voi nel frattempo però in alto insieme, per i 100.000 iscritti, qua in alto, e mi raccomando sempre a bestia la saluta di va della campanella, grazie, e di cuore a ognuno di voi, ecco ora molto meglio, ora il PD rituita queste parole, molti deputati del PD. Secondo me è proprio il chiaro messaggio che io posso onestamente fare molto meglio di te dentro al partito, e per io, non io Gianmarco Cirulli, ma io intendo il presidente, per il governatore poi, non siamo mica l'America, si fanno chiamare da governatori, presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, proprio De Luca, proprio lui. E lui, è lui o non è lui? Certo che è lui, è lui, De Luca, che dice, col suo tono e la sua plomb, questo partito non è credibile nemmeno nell'opposizione, questo partito non è credibile per il futuro del paese, fin quando è in mano. Non dico altro per non mettermi nei guai, mi conoscete ormai troppo bene, avete capito cosa volessi intendere. Io onestamente De Luca non ce lo vedo, essere segretario del PD, intanto sappiamo che comunque la Schein starà lì fino a 2027, perché dovrebbe essere la stessa Schein, vedendo magari che non c'è una fiducia complessiva, una fiducia in toto nei suoi confronti, va là a prendere e andare via. E se è lì vuol dire che comunque la fiducia ce l'ha. Raga, il partito dice 24-23,5%, da quando c'è lei anche se non ha fatto una mazza, bisogna essere realisti, non ha fatto niente, poi fa un'opposizione strana ultimamente, cioè proprio da dilettante allo sbaraglio, però le danno fiducia. Però è strano, il PD ha 23,5%, ma dopo la Meloni darebbero più fiducia ai Berlusconi oppure a Vannacci. E lei è al quarto posto. Poi ce lo vedreste De Luca al posto suo. Onestamente, sinceramente, ditemelo nei commenti.